Non bisogna stancarsi di ripetere che non è finito niente, che è solo l'inizio. Per vincere, a noi servono tre cose. Uno, il programma. Due, il programma. E tre, il programma. Secondo me serve avere un'immagine nuova. Io direi dei cervelli nuovi. Volevo presentarvi Alice. Ci sposeremo. Già tutto programmato e avremo nove figli. Benvenuta fra noi, Alice. Buona fortuna. Allora, per favore. È meravigliosa, no? Eh sì, è mia figlia. La ringrazio di aver accettato il mio invito. Prenda le triglie. C'è tutto il Mediterraneo dentro. Come in lei. Se tu sapessi. Che cosa? Ho fatto l'amore. Ti fa tanto ridere? Non lo so, ti è piaciuto? Ma, mi è piaciuto sì. Con la situazione tragica degli alloggi, delle scuole, i tempi sono maturi. Sarebbe terribile perdere perché non riusciamo a trovare l'accordo sul capolista. Vorrei tanto che ti leggessero, almeno una volta. Beh, è un po' presto. Allora, mi piace Marsiglia. Sono tutti di sinistra qui. Nessun borghese, nessun razzista. C'è solo brava gente. Ma perché sono così agitata? Succede quando si vuole cambiare il mondo. C'è molto da fare. Sono quelle che aspettano tutti. È chiaro?